Progetto casa aperto a giovani coppie da tutta Italia, con un reddito non inferiore a 12.000 euro l'anno, non superiore a 30.000 euro, che scelgano l'Aquila come progetto di vita e lavoro. Questo prevede il nuovo bando del Comune dell'Aquila, illustrato dall'assessore Emanuela Di Giovan Battista. Un bando che si aggiunge a quello per le fragilità sociali, che prevede questa volta canoni abbattuti per coloro che hanno redditi sotto la soglia dei 12.000 euro. Per giovani coppie si intende anche una coppia non sposata, ma di fatto convivente da almeno un anno. E di cui almeno uno dei componenti ha meno di 40 anni. La Di Giovan Battista accoglie l'occasione per evidenziare poi che non c'è contraddizione tra queste ed altri bandi volti a riempire gli appartamenti possismici del progetto case, con l'ordine del giorno approvato nell'ultimo Consiglio Comunale, che prevede in prospettiva l'abbattimento dello stesso. L'ordine del giorno, specifica infatti la Di Giovan Battista, e tiene conto di una programmazione. Ad essere abbattuti un giorno, tenuto conto che sarà un'operazione molto costosa, saranno soli lotti fatiscenti e malandati, di un patrimonio edilizio di gran lungo eccedente in prospettiva rispetto al fabbisogno di una città che si sta ricostruendo, e in cui ci saranno a regime alloggi per 150.000 persone. Non tutto sarà buttato giù, insomma, l'abbattimento e finalizzato a concentrare le risorse per gestire e curare il patrimonio abitativo che si intende preservare, per riconvertirlo in alloggi popolari da affidare all'Ater, o anche in foresterie e alloggi studenteschi, per dare risposte alle fragilità sociali, per attrarre nuove, giovani energie nell'Aquila che verrà. Allora, il bando è rivolto a giovani coppie, per noi per giovani coppie intendiamo non solo le giovani coppie sposate o iscritte nel registro dell'Unione Civile, ma anche le giovani coppie di fatto, quindi che vengono indicate o dalla presenza di figli, oppure dalla residenza, dalla co-residenza ad almeno un anno. Quindi non abbiamo voluto dare spazio solo a chi decide poi di fare un progetto di vita insieme attraverso solo gli istituti dei matrimoni, ma anche a chi decide, anche senza un contratto, di poter fare un progetto di vita insieme. Sono giovani coppie che non hanno la necessità di avere per forza la residenza qui all'Aquila, ma noi ci rivolgiamo a tutto il territorio italiano, perché il nostro obiettivo è anche quello di portare le giovani coppie nella nostra città, perché magari vogliono provare ad investire sul lavoro qui, vogliono provare a vivere qui. È ovvio che ci saranno degli indici di punteggio maggiori, però per le giovani coppie che sono residenti nella provincia dell'Aquila.